Il dottor Giuseppe Vadalà, che è dirigente superiore e comandante del corpo forestale dello Stato della Toscana, il quale ci parlerà della legalità, tutela della qualità e sviluppo rurale, l'origine del cibo e un valore nel mondo globale. Abbiamo anticipato l'intervento del generale Vadalà perché aveva problemi, lui doveva farlo a tarda mattinale, quindi farà un breve intervento sulla cosa e poi proseguiamo con la sessione medica perché ha dei altri impegni. Buongiorno a tutti, saluto Federico Fazzuoli veramente tanto calorosamente, perché con il corpo forestale dello Stato vanno ancora questi temi, forse i primi raggiti dei temi ambientali, devo dire, è stato tra l'obbliga conosciutissima, è stato colui che veramente ci ha dato spazio e quindi lo rivedo veramente complicente a nome anche di tanti forestali, di tutti i forestali, grazie veramente di tutti i loro affatti, affatti. Buongiorno a tutti, intanto un saluto da parte del corpo forestale dello Stato, un'attenzione da parte del corpo, della nostra amministrazione e non posso non cominciare con un grande apprezzamento e un grande ringraziamento a Giuseppe Alivieri, veramente insomma come tutti voi, mi fa piacere ribadirlo, come tutti voi da vedere, sta facendo un grande lavoro di pazze, di raccordo, di attenzione e di costruzione, che è poi tutto quello in cui tutti siamo impegnati di cercare di costruire e realizzare su temi che sembrano temi oggi meno conosciuti o addirittura a volte che preconizzano anticipano tanto, però poi sappiamo che, ripeto, negli anni 70, da quando ci siamo cominciati a occupare l'ambiente, il corpo forestale ha cominciato ad occuparsi dell'ambiente, a 10-15 anni fa, quando ho vent'anni fa, quando della qualità dell'alimento, dell'origine dell'alimento non si aveva la condizione dell'importanza di questo, sembrava un tema poco importante, invece oggi vediamo, è inutile dirlo, quanto è importante. E non l'ultimo, diremmo, è quella di cui oggi poi si tratterà nella successiva sessione, quella dei pesticidi e degli ogermi, in senso latoe. Io scusate che anticipo l'intervento, anche poi l'ispettore Baiocchi, che è il nostro, uno della persona di punta, che sta lavorando su queste attività e su questi indagini, nel dettaglio, che vi potrà illustrare. La questione dell'origine dell'alimento, che è questo tema, che è centrale, che è un tema centrale non solo dal punto di vista economico, di qualità e quindi di potere economico delle nostre evoluzioni qualitative, che, lo ricordo sempre, nel 2000, l'anno scorso, hanno prodotto 35 miliardi di esportazioni in toto, tutto l'albero alimentare, quindi è una quota maggiore, però una quota molto importante. Però a questa quota aggiungiamo la funzione importante che l'agricoltura nazionale ha sul nostro territorio, che è quella di mantenere una fetta economica importante, quindi una fetta di persone, territori rurali, montani, dove ovviamente c'è più difficoltà. Per l'Italia questo è un argomento assolutamente strategico. Il più del 70% del territorio italiano è coordinare un montano, più circa il 70% però delle persone, o tutti noi, molte volte risidiamo nelle zone urbane, circa il 60% delle foreste nazionali sono sotto quota di mille metri, quindi una quota un po' bassa. Questo sta a significare che l'agricoltura e quei territori di interfaccia tra la foresta e l'agricoltura e le colline sono preziosi per poter mantenere intatto il territorio e intanto il territorio lo si mantiene solo se c'è la presenza umana, la presenza umana che quindi significa la presenza di redditi e quindi l'agricoltura in questi territori è assolutamente importante. È ovvio che l'agricoltura in questi territori non può essere un'agricoltura di quantità, di quantità estreme e forse nemmeno di altissima redditività, ma può essere ed è un'agricoltura di qualità, un'agricoltura di qualità che ha bisogno di quelle 274, oggi denominazioni, dombe, IGP, di cui l'Italia è il primo paese in Europa che ovviamente sono la punta dell'iceberg della qualità nazionale e poi c'è il resto. Questo serve a mantenere alto il reddito dei nostri agricoltori e per esempio l'olio extraenergia di oliva. L'olivo sappiamo bene quale quota anche occupa nell'aurografia nazionale che va dagli oliveti della pianura ovviamente che ci sono in Puglia, ma sale addirittura, insomma se li troviamo anche sul lago di Garda con questa famosa top dell'olio che c'è all'altura attorno al lago di Garda sappiamo quanto è importante la cultura dell'olivo. E l'olivo facendo un raffronto dell'olio extravergine di oliva, la grande pressione dell'olio extravergine di oliva, il cui dal 2010 e poi rispetto alla pariocche da questo punto di vista qualcosa mi dirà, dal 2010 abbiamo iniziato a stressare il progetto di qualità dell'olio extravergine di oliva nel senso che se soprattutto si esportano l'olio extravergine di oliva negli stradini di Giappone dobbiamo esportare l'olio extravergine di oliva che deve essere quello ottenuto come dice la parola, come dice più che la parola il processo, spremitura a freddo di oliva, non ci deve essere null'altro di null'altro. Se ovviamente l'olio per una questione commerciale di quantità o a volte di illegalità e a volte diciamo anche di criminalità perché ci sono dei guadagni enormi, viene lavorato, deodorato, miscelato per poter vendere cosa? Non olio d'oliva, l'olio di salsa d'oliva che non lo compra nessuno ma per poter continuare a vendere olio extravergine di oliva evidentemente si fa un danno in primis ai consumatori e noi che quando compriamo l'olio crediamo che sia un solitariano o come la dizione voi dice, sapete bene ricordate, miscela di oli comunitari che è una dizione ovviamente possibile che la normativa europea lascia aperta e invece troviamo olio che viene dai paesi anche del Nord Africa, viene oli che non hanno anche ovviamente quella qualità ma vengono lavorati per tirare fuori che cosa? Un olio da cui si devono stare di dare fuori tutti gli insapori o l'olio cosiddetto rancido, tutti gli odori che non vanno bene per poi dare un olio a volte che è molto piatto o a volte viene anche insaporito. Tutto questo quale sono le sostituzioni? Ripeto, uno sulla nostra fede ovviamente di andare a comprare e di spendere anche per un olio che ha una certa qualità. L'altra questione è quella che si va a fare un danno a chi? Un danno a chi per produrre l'olio in spremitura a freddo minimo si parte dai 6, 7, 8, 9, 10 euro in Toscana, 6, 7 euro forse nella Sabina, forse si può trovare 5 euro in Puglia e forse 5 euro in Sicilia nella zona del Belice degli oli che hanno una spremitura a freddo. Invece troviamo gli oli a 3 euro anche nei supermercati, come sappiamo sempre oli che sorgiva e il danno questo quindi è agli agricoltori nazionali che non riescono a dare la redditività a quel loro prodotto e quindi a poter evidentemente dare un valore al cibo e al loro lavoro che è la grande questione direi mondiale che il cibo ha un suolo, un suolo valore che non è quindi solo mercantile ma è un valore territoriale di quello che cosa può significare per la nostra agricoltura che non è l'agricoltura dei paesi del nord Europa. In questo senso vorrei introdurre un'altra considerazione importante, l'Italia nonostante tutto diremmo, nonostante tutto ma come anche l'intervento di prima sottolineava sul valore della biodiversità e come insomma il dottor Fazzuoli per anni ci ha ricordato che è un paese che da un punto di vista di biodiversità e agro biodiversità proprio per la conformazione e questa grande ricchezza che prima si diceva, una grande varietà. Ma l'Italia ha il vanto che in Europa comunque, ripeto, nonostante tutto siamo quelli che stiamo tracciando la strada. Stiamo tracciando la strada perché siamo stati il primo paese in Europa nel 2011 a realizzare e a votare il Parlamento nazionale una legge sulla tutela della qualità del prodotto, primo paese in Europa. Siamo il paese in Europa che, per dire un altro fatto importante, ha costruito e ha promosso la rete Interpol sulla lotta alla contraffazione dei prodotti agroalimentari. Siamo il paese che ha più spirito perché si realizzasse una norma che si chiama Ex-Office, che è una norma banale ma importante, che è quella che ogni contraffazione di prodotto in ogni paese in Europa, di qualunque paese in Europa, chiunque l'abbia fatto, può essere perseguito. Prima, se il parmigiano in Germania, Medina ha trovato il famoso Parmigiano, c'è questo nome, Fasullo, con cui si individuava un nome di un formaggio che non era parmigiano, chi voleva perseguire questo reato o questa illegalità doveva iniziare una causa civile. Il Consorcio del Parmigiano ha iniziato una causa civile per dire, guardate che Parmigiano è un po' parmigiano, che uno tende di comprare parmigiano in Germania ma non è parmigiano. E ha avuto, allora, ovviamente sarà una vicenda di Nino Taviani, però alla fine ha avuto ragione. Oggi, grazie a questa norma ex ufficio, ovviamente avvolta dal Parlamento italiano e poi dal Parlamento europeo, qualunque paese noi possiamo perseguire la feta greca falsa che c'è in Italia, in Danimarca possono perseguire l'amarone falso che viene purtroppo esportato a volte dalle cantine italiane, ovviamente quelle illegali, il parmigiano può essere perseguito, così anche gli altri prodotti. Quindi è una norma che permette che in tutta Europa ci siano le forze di polizia, quelle agenzie che non controllano, possano fare questo lavoro. Questo lavoro, non mi spiancherò mai di dirlo, va a difendere non solo le nostre tasche, se così vogliamo mettere, o il nostro valore della fiducia che abbiamo, ma va a difendere alla fine il nostro territorio, perché dà valore a questi, dà valore agli addirittori nazionali. In questo senso quindi l'Italia in questo ha fatto da battistrata, e ha fatto da battistrata a un altro argomento che mi permetto sempre di richiamarlo, che sarà richiamato poi successivamente alla questione OGM. Sulla questione OGM abbiamo visto che se prima forse abbiamo avuto grandi problemi, insomma, sulla questione OGM, perché al di là, e non parlo ovviamente da un punto di vista scientifico dei benefici o dei malefici, insomma, comunque delle questioni positive o negative che possono portare, però sicuramente le culture OGM sicuramente cosa rischiano di fare? Rischiano di inquinare tutta questa quantità di agrobiodiversità nazionale, quindi sia il biologico ovviamente, ma anche il biologico, e quindi quello che alla fine è stata la posizione che l'Italia ha assunto, il ministro Martino ha assunto, è che quello che ogni paese si autodetermini per quanto riguarda la questione degli OGM. Evidentemente ci possono essere assetti e culture, ripeto, al di là delle questioni scientifiche di OGM, paesi che possono decidere un loro assetto di agricoltura, ma in un'Europa che uniforme deve essere, però deve essere indubbiamente un'Europa uniforme, con delle regole generali che però valorizzi le diversità, che quindi le progetti diversità, per l'Italia che ha una agricoltura improntata alla qualità e non alla quantità, la non scelta degli OGM, quindi poter scegliere di evidentemente, insomma, di non semigliare OGM, significa evidentemente poter difendere questa qualità del proprio alimento, difendere un assetto strategico dell'economia nazionale, difendere un assetto strategico del territorio nazionale. Ora se penso a tutti gli anni anni di conveni, dibattiti, iniziative di cui insomma ovviamente consessi come questi e devo dire che il professor Altieri è stato uno dei promotori, quanto è servito, diciamo che c'è stato tanto lavoro, ci vuole tanto lavoro e ci vorrà tanto lavoro sicuramente, però questo è servito per costruire una posizione, una posizione italiana che l'Italia è riuscita a far capire anche l'Europa, perché la questione ovviamente che ci troviamo ora è tra un'agricoltura del nord Europa e un'agricoltura del sud Europa che sicuramente è diversa. Per fare un altro esempio anche, che ha una sua importanza sul territorio, c'è stato un bando, una direttiva europea sulla questione di non abbruciare più nessun residuo vegetale, che da un punto di vista direi strettamente logico-tecnico, ovviamente se si riuscisse a non bruciare nulla, ovviamente parliamo di vegetazione, di vegetazione di residui vegetali che vengono da elaborazioni agricole, sicuramente sarebbe positivo perché non si produce un'agricoltura di vita armonica, soprattutto quello che sappiamo. Per l'agricoltura del sud Europa una miscola di questo tipo sarebbe stata veramente difficile da sostenere perché c'è la miriade di imprese, la miriade di piccoli agricoltori, le migliaia di piccoli agricoltori che a volte si possono trovare in difficoltà su questo e allora il Parlamento nazionale è riuscito a produrre una normativa che limita l'abbruciamento dei residui vegetali, ovviamente quasi per uso personale, abbiamo i 3 metri steli che sarebbero più o meno i 3 metri cubi per ettaro e soprattutto siccome c'è un problema di causa di incendi boschivi nel periodo di luglio-agosto questo non viene fatto, non può essere abbruciati proprio perché possono essere una di quei fuochi che poi danno lì già l'incendi boschivi. Questo per dire che c'è stata una regola, una flessibilità di impiego di questa norma europea in campo nazionale, di agricoltura nazionale proprio per far sì che costa, rendere sempre più possibile questa l'agricoltura nazionale produttiva di beni e soprattutto di mantenimento evidentemente di posti di lavoro e quindi di territorio. La questione con cui evidentemente vorrei concludere è come dire la trincea che oggi ci troviamo da dover superare, nel senso anche qua da dover costruire, è quella sicuramente del massiccio uso, a volte che si fa massiccio, comunque dell'eccessivo utilizzo dei pesticidi diciamo insensurato. Sicuramente l'Italia, e questo è bene da dirlo, è il paese che in Europa produce più biologico, ha più addetti e ha più imprese biologiche, che è un fatto eccezionale. Anche su questo siamo impegnati come forza di polizia a dover combattere queste frodi perché gli accade che siccome l'Italia, come nell'olio extravergine di oliva, l'Italia ha il nome, ha il nome ovviamente del buon prodotto agroalimentare, quindi come nell'olio extravergine di oliva avviene che l'olio soprattutto delle colline toscane è utilizzato per mettere le tigette su questo olio che poi non è nelle colline toscane, a volte non è nemmeno in Europa, su biologiche avviene che siccome abbiamo questa nomea del tutto positiva, ma ovviamente abbia ragione, avvengono a volte da parte di truffatori, perché così possono essere non altro, le importazioni di prodotti che biologici non sono, da extra confine, vengono legalizzati o resi biologici in Italia per poi essere esportati, per poi quando vengono esportati anche nel nord Europa per esempio, che è un grande mercato di prodotti biologici, accade che ci dicono guardate che questo non è biologico, che cosa ci state dando, quindi anche su questo c'è un'attività che viene fatta, ma sulle biologiche, quindi devo dire che sulla utilizzazione dei pesticidi si apre un altro grande campo, questo perché? perché dobbiamo poco a poco cercare dove è possibile evidentemente di uscire dal settore estremamente biologico che va bene, ma cercare anche nelle altre soluzioni o ovviamente di lavorare molto, e qua il professore Ottieri in questo è un esperto, oltre che un maestro sulla lotta integrale insensolato su quello che può venire, o comunque di sempre più poter dar campo a quello che è il biologico. Concludo con un richiamo, mi piace farlo anche in questa occasione, una frase, un pensiero più che una frase, un pensiero di Keynes, insomma dell'economista, famoso anche, ma quello che stupisce, che mi stupisce ancora, è che la detta nel 1933, quando ancora, diciamo che non sapevamo neanche che era la globalizzazione, ma nemmeno che cosa erano le emergenze ambientali, allora lui nel 1933, quando evidentemente aveva visto che comunque questo commercio globale di tutto, poteva forse dare abito a qualche problema, lui allora, più o meno cerco di riportarlo, disse così, va bene rendere cosmopoliti, o rendere globalizzati, se così vogliamo dire, tutta una serie di attività, come sono la scienza, la conoscenza, i viaggi, però non è detto, però tutto il resto dobbiamo renderlo globalizzato solo se questo, lui diceva, usava due parole, utilmente e convenientemente, renderlo globalizzato, perché altrimenti, diceva allora lui nel 1933, c'è il rischio che, c'è qualche volta, la finanza globale può portare dei problemi e allora noi qualche volta, diceva lui nel 1933, dobbiamo anche prendere atto che forse la finanza locale, quindi una finanza locale può essere anche un po' più utile di quella globale. Lui nel 1933 aveva evidentemente già un po' visto quello che potevano essere le ripercussioni di un commercio a tutto tonno, che sicuramente ha portato anche un salto economico inari che prima erano povere, che però evidentemente portato fino all'estremo o quantomeno lasciato fino all'estremo senza regole, la finanza a volte può causare i problemi che ovviamente non richiamo che ci sono stati, ma se noi pensiamo a quello che dietro all'alimento, evidentemente se un progetto come questo usato dietro all'alimento ci può essere, capiamo che evidentemente se noi sganciamo la materia prima gradimentare dalla sua indicazione, cioè non pretendiamo di averla in etichetta come oggi si sta cercando di fare, sganciamo il nostro cibo, il valore del cibo, quello che giornalmente mangiamo e quindi il nostro essere, lo sganciamo dalla territorialità, lo sganciamo sicuramente dalla sicurezza e lo sganciamo anche dalla territorialità, cioè se noi accettiamo che un cibo può essere come un'automobile, a noi l'automobile o i capi di abbigliamento con cui vestiamo ci interessa poco, se l'acciaio viene estratto in Sudafrica o i cotoni viene estratto in America o il cotone nazionale, fino a ciò, ma sul cibo se noi applichiamo lo stesso sistema la ripercussione saranno uno quello sulla nostra salute perché la materia prima gradimentare giornalmente arrivano le navi graniere, piene di grano, ma giornalmente arrivano le navi oliere, piene di olio che poi vanno a andare a produrre l'olio extravergine di oliva che prima dicevamo, ma soprattutto se noi sganciamo la materia prima agroalimentare dal suo territorio facciamo sì che si può produrre cibo in qualunque parte del territorio a qualunque prezzo possibile lasciando, non considerando questa importanza dell'agricoltura nazionale, che non è solo nazionale e internazionale, che non è solo importante da un punto di vista della cultura contadina che di per sé sappiamo bene quanto di importanza ha di valore, ma è importante per quella fetta, per queste parti del territorio che non è solo l'Italia, vada le peri, non dobbiamo solo andare alla ricerca del made in Italy, ma del made in, perché paesi come fossero la Cina, l'Efuglia di Cile, l'Equador o altri paesi, hanno paesi dove c'è l'interesse che le loro produzioni devono essere valorizzate, devono essere valorizzate per una politica che è quello dello sviluppo rurale, che tanto l'Europa ha fatto anni di politica dello sviluppo rurale, che è quello che noi dobbiamo cercare di portare nei paesi terzi per far sì che questi paesi a poco a poco, per quanto riguarda l'alimentazione e non dimentichiamo l'acqua, siano sganciati da dover e dipendere da altri, ma quanto più siano artefici del loro territorio e del loro destino, se io ho i semi con cui vicino posso produrre, produco e ho un bene, e addirittura questo bene in qualunque parte del territorio lo riesca a valorizzare, pensiamo al caffè, al cacao, a tante cose, vedete come questo significa reddito, significa vita. Non ultimo, la questione dell'acqua, l'acqua è un po' in sordina anche se, perché noi diamo per scontato che l'acqua è un bene comune per tutti e quasi non dovrebbe avere prezzo e valore. Dico solo una cosa, è avvenuto questo fatto ovviamente abnorme, poi riuscite insomma sono siciliano di origine, anche messinese di origine, in cui la città di Messina è rimasta per 6-7 giorni senza acqua, quindi 250.000 abitanti, ma perché c'è stata questa frana che ha troncato una coltura. Voglio solo dire che al di là di questo e del distesso geologico che ha colpito quella zona, la vicino, Messina è andata a prendere l'acqua in provincia di Catania, in un'altra provincia, la vicina, la sorgente dell'Alcantara, che penso molti conoscono, è di proprietà di una multinazionale francese, ma non per ora, è di proprietà da molti, molti anni. Sull'acqua dobbiamo anche, come dire, fare sempre molta attenzione che anche l'acqua deve essere un bene quanto più comune e quanto più collettivo possibile per la salvaguardia di tutti. Ringrazio veramente ancora il professor Artieri di questa bella domanda, e quindi vi ringrazio il lento e il tuo fattore. Grazie.